Alla fine la regione Lombardia è stata nel fattico immissariata, cosa che noi stiamo chiedendo da 13 mesi e che non smettiamo di chiedere, è una cosa più di tutte, una cosa che ci indigna più di tutte. 31.000 morti e non hanno mai chiesto una volta scusa, mai, mai, vergogna, immensa del cuore. La leve del sentinello che si tratta di vintamente, perché la teccontana e la tua giunta siano le dimissioni. Grazie. 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 Buongiorno, siamo in diretta, l'eurodeputato per Francesco Maiorino. Grazie di essere qua. Vuole dirci qualcosa? Io credo che ce ne debbano andare e questo è un modo giusto per dirlo, perché la pandemia ha sconvolto il mondo e in Lombardia abbiamo avuto un di più. E' una tratta intelligente che le ha sbagliate. Grazie, voglio fare esattamente una manifestazione che assomigli anche plasticamente a quella fatta a Lodi. Tutti seduti per favore. Allora, come succede nelle manifestazioni, tutti devono avere, un secondo di attenzione, tutti devono avere un direttore d'orchestra. Noi abbiamo la direttora d'orchestra, invece, in questo momento, che è Silvia Zaro, che è accanto a me. Benvenuta. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Lei di mestiere insegna proprio musica e quindi è persona adatta. Quindi lei ci guiderà in questa manifestazione, in questo momento. Siete pronti? Non dai voti alla fine, non vi preoccupate, non li dai voti. O li dai? No, no, non li do. Liberi tutti qua. Allora, come devono fare i ragazzi? Quale ritmo devono avere adesso? Allora, adesso abbiamo suonato ognuno nelle nostre unicità. Fermo lì che fai ti interrogo. Adesso suoniamo per farci sentire una comunità. Quindi suoniamo insieme come un'orchestra, come diceva giustamente Danilo. Come un'orchestra, come un coro. Quindi partiamo prima piano, come intensità, che vuol dire a basso volume. E farete il ritmo che vi do io. Facciamo un'orchestra, quindi se io faccio la penna sul bordo. Buon fatto. Ok? Ehi, bravi! E! E! Ci senti aersi! Attenzione, attenzione! Allora, facciamo ancora un po' di volte risposta. Io vi faccio... Dani... Drei, via! Ehi! Ehi! Grazie a tutti. 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 Noi siamo nel pieno dell'energia, quindi mi raccomando conteniamoci. All'inizio facciamo piano, adesso facciamo ognuno il suo ritmo, ma seguitemi solo per per quanto riguarda l'intensità del suono, il volume del suono, ok? Ok. Pronti? Atenzione. So, ok? All'inizio faccio. All'inizio faccio. All'inizio faccio. All'inizio faccio. All'inizio faccio. All'inizio faccio. Avete sentito che direttore d'orchestra che abbiamo avuto qua? vogliamo il bis? Vogliamo il bis per farlo sentire un'altra volta? All'inizio faccio. All'inizio faccio. All'inizio faccio. All'inizio faccio. All'inizio faccio continuare una titolo ricamente. come l'esplosione dell'inno alla gioia della nonna di Metronen. Deve essere un'esplosione di una comunità che venga la sua determinazione, ok? Va bene. 3, 2, 1 e... 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 4, 1 e... 4, 1 e... 4, 1 e... 4, 1 e... 5, 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 1 e... 6, 1 e... 5, 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 1 e... 6, 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 1 e... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.